È un agosto di grandi manovre per conciliare gli spazi fra scuola e università. Da settembre, Pesaro Studi di Viale Trieste diventerà un polo interamente scolastico per ospitare sia gli studenti della Dante Alighieri in vista della demolizione della scuola di Soria, sia quelli della primaria Mascarucci, edificio provato dalle scosse sismiche di novembre. Va da sé che l'università traslocherà dal mare verso il quartiere di Muraglia, come da indicazione del comune. La sede destinata è quella di Via Petrarca 18, sede del quartiere 7 Montegranaro-Muraglia, dove già da settembre saranno trasferiti il corso in sistemi industriali e dell'informazione e i corsi di laurea in ingegneria per la sostenibilità industriale e laurea magistrale in green industrial engineering dell'Università Politecnica delle Marche. Il consiglio di quartiere e le associazioni si trasferiranno in locali attigui per consentire all'università una sede temporanea adeguata. Stanno tutti lavorando gli uffici per far sì che i ragazzi potranno entrare a settembre nella sede di Muraglia. Il lavoro che stanno effettuando è grande, verrà spostato anche l'ufficio a decentramento, però è fondamentale per noi che l'università vada avanti. Come sapete qualche settimana fa l'assessore Pozzi ha portato anche la delibera del nuovo progetto del San Domenico, quindi poi fra tre anni l'università avrà spazio qua in centro storico, cosa che abbiamo sempre promesso, quindi città-cantiere, però stiamo lavorando, l'università andrà avanti e stiamo anche cercando di aumentare i servizi per i ragazzi dell'università.